direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi sabato 18 dicembre il jackpot ha raggiunto la cifra di 126 milioni 865 mila 914 euro il più alto d'europa le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 151 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero sei siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 73 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 57 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 31 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 77 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 44 dopo i sei numeri che assegnano jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che dominando questo numero assieme a 5 numeri della sestina vincente potete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 61 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly 6 73 57 31 77 44 numero jolly 61 ed ora passiamo al numero superstar 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 è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le spere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super in allotto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 80 e ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 151 in ordine crescente 6 31 44 57 73 77 numero jolly 61 superstar 80 l'estrazione di oggi sabato 18 dicembre termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 126 milioni 800 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 151 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super in allotto assegna 488 mila 111 vincite e vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 126 milioni 800 mila euro il più alto d'europa sarà stato centrato il 6? il 6 di super in allotto questa sera non è stato realizzato ed il jackpot cresce ancora per arrivare a 128 milioni 100 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 5 e vincono 48.203 euro ciascuno i 4 sono 617 e vincono 396 euro ciascuno i 3 sono 25.255 e vincono 29 euro ciascuno i 2 sono 419.729 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 346.187 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella all'unico 4 stella vanno 39.635 euro i 3 stella sono 124 e vincono 2922 euro ciascuno 100 euro vanno ai 1829 2 stella 10 euro vanno ai 12.665 1 stella e 5 euro vanno ai 27.886 0 stella inoltre 134 vincite da 50 euro ciascuna e 20.203 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate alle combinazioni non vincenti vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotto vi dà appuntamento a martedì 21 dicembre giocheremo per un zecco di 128.100.000 euro arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti